E dopo le bollette pazze EAS 2.400 avvisi di accertamento ICI sono stati recapitati ai saccenzi. A sostegno dei cittadini anche questa volta interviene l'associazione L'Altra Sciacca. La vicenda oggi è stata oggetto di dibattito nel corso del nostro programma radiofonico Indovina chi viene a pranzo. Il servizio. Il 2007 si è chiuso per i contribuenti saccenzi all'insegna dei pagamenti. Prima le bollette pazze EAS e poi gli avvisi di accertamento ICI per immobili non dichiarati. Circa 2.400 notifiche riferite al 2002 inviate il 28 dicembre scorso dall'ufficio comunale ICI con scadenza al 31-12-2007. Da qui la corsa frenetica per il recapito delle notifiche e il conseguente passo del cittadino che si precipita presso l'ufficio competente per gli opportuni chiarimenti. Inevitabili le lamentele motivate da lunghi tempi di attesa davanti all'ufficio, dal personale uberato, dalla notevole mole di lavoro, dagli errori commessi. La questione oggi è stata argomento di dibattito nel corso della nostra trasmissione radiofonica Indovina chi viene a pranzo condotta da Pino Marinelli. Ospiti il consigliere comunale Paolo Mandracchia, il presidente dell'associazione L'Altra Sciacca, Pietro Mistretta, il dirigente dell'ufficio ICI, Maria Sant'Angelo. Purtroppo questo è stato un lavoro che l'ufficio ICI doveva fare, in quanto si tratta di un controllo che viene imposto dalla legge. Quindi l'ufficio deve controllare i dati presentati dai contribuenti nei vari anni, quindi con le dichiarazioni che sono obbligate a presentare anno per anno se sono intervenute delle variazioni patrimoniali e l'ufficio poi questi dati li dovrà controllare con i dati del Catasto. Quindi da questi confronti sono venute fuori queste situazioni che purtroppo hanno generato questi avvisi. Per un buon 50% delle pratiche già esaminate si tratta di avvisi riliquidati per i quali il contribuente deve pagare la differenza dovuta a seguito della verifica della propria situazione immobiliare e patrimoniale. Solo per un 10% si è trattato di errori a carico dell'ufficio. A scendere in campo, anche questa volta, l'associazione L'Altra Sciacca attenta alle segnalazioni avanzate dalla cittadinanza. Ecco il suo suggerimento. Noi intanto siamo impegnati per la seconda volta ad affrontare una problematica così generale. Noi dopo le bollette EAS ora abbiamo l'accertamento ICI. Il malcostume ormai della pubblica amministrazione o degli enti pubblici è quello giustamente di arrivare all'ultimo momento a notificare questi avvisi o queste bollette. Evidentemente questo mette in disagio i cittadini. I cittadini si rivolgono a chi evidentemente può avere la possibilità di intervenire. Noi, come L'Altra Sciacca, ci siamo subito attivati in maniera tale non solo di affrontare il problema, di dare delle indicazioni, suggerire di rivolgersi al garante del contribuente e poi, non ultimo, di predisporre un modello, metterlo sul sito e tutti i cittadini che vorranno utilizzarlo possono accedere sul sito www.l'altra sciacca.it. Il consigliere comunale del Partito Socialista Paolo Mandracchia nel corso di suo intervento ha puntato il dito sulla carenza di personale all'ufficio Tributi. Negli ultimi due anni sono state sottratte quattro unità, due delle quali proprio all'ufficio ICI. Condizione questa che penalizza ulteriormente i cittadini costretti a lunghe ore di attesa prima di ricevere opportuni chiarimenti.